e ciao a tutti ragazzi a tutti sono il vostro salmato tecnologico io qui oggi per un nuovissimo episodio della rtdl di rainbow six siege e oggi sono un compagnia di mirenzo il caruba marlock e dark legion quindi ragazzi questo nuovo episodio cercheremo di rivincere come l'ultima volta che se mi diceva dark che oggi sembra molto difficile giusto 450 ma va bene madonna mia che si fa il botolino ci proveremo ma mi dicono ecco molto utile comunque ecco utilissimo guardi non ti immagini quella volta che c'è la classificata con marco marlo che mirenzo guarda appena te ormai piazzavo te c'è andavo un po' di coglione e fuggiva falliremo non so giusto allora sento un tuicino malandrino dov'è? un tuicino malandrino ecco che ero che cerca di cerchinarlo ma per me mi ha fatto 20 litri eh madonna se prendo uno in e18 con il revolver 50 euro sulla pospe ecco io già ce l'ho pronti in là proprio mi dica quindi parte la challenge del caruba che non ha preso l'armatura? io l'ho preso io l'ho preso matematica senti una cosa ho visto che buggeranno con termite bravo ok ragazzi vi serve uno scudo La prossima prendi il filo Ragazzi concentrati Sono veramente forti Se c'è qualcuno che roma Con la roma Ibana si Mi ha inceppato 40 cariche Ragazzi termite ha usato tutte e due le cariche Ha usato tutte e due le cariche Non c'è andare Drone di twitch ragazzi Dove? E' andato nella stanzina Ok sta passando verso quella del garage Bella Ok resta dentro Resta sicuro La twitch praticamente si trova Dalla stanza dove l'ho aperto Alla nostra sinistra Dove c'è lo stanzino piccolo Insieme a Ashe Chi è che mi può dire Se tu tieni i droni qua Mi puoi dire se c'è gente lì Davanti alla porta Provo lanciare il C4 Vedere se riesco a prendere Ancora Ashe Si Vada ma Individuato Manca ma Penso sia dentro Non è sopra di te infatti Rotto 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 Ok ragazzi ma dove ci sono gli armadietti C'è Ashe Twitch E mi sembra forse anche uno sledge No e Ibana Mi sembra la morte Intanto busceranno dalle due porte Ragazzi non vi fado ammazzare Mark se sbagli ti sparo in testa Bravo Se sbagli ti sbagli Non mi sembra la morte Ma tonno mia Vanham briefing Eh dovete dire Mattei mi si è proprio davanti alla porta La cacca Oh ce ne sono davanti alla porta Oh ma no ma di sotto il drone N'ho visto cazzo Roling 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 Era un bambino che passava di lì Era un bambino che passava di lì Però se stai a 100 Arriva al massimo a 120 Ma c'è Twitch Ora da me 20 secondi 20 secondi Dobbiamo difendere l'obiettivo ragazzi Ma te Non deve trovare nessuno Sì Fermati 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 mister Da me da me No Madonna mi ha shottato in un colpo Ibana Grazie Eh è ferito 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 Buona buona Bella Grandi Grandi ragazzi Grandi Porca trova Ibana mi ha shottato in un colpo Poi è uscita ma Stava sfiorando Eh sì Madonna Oddio ma le mie gambe Iraptor Iraptor Però ho paura che ci sia qualcuno Lì sopra Nella botola Eh cioè se poi ci vai tu Insieme a Ma Fuse C'era andato Doc a far la botola Io spero che sia tornato giù Secondo solo Ma per lui Per lui Ragazzi c'ho un lago qui sul mitraglione Non mi preoccupare La paura Abbiamo vinto Abbiamo vinto Metterei il segno Dieci colpi Su Eh ok io per sicurezza Mando il drone dentro la stanza Dove deve entrare Della botola Thatcher qua Allora sembra che non ci sia nessuno All'interno lì della botola Eh ero stato Non anch'io se mi fate No t'è certo t'è certo Oh dark Oh dimmi Ah ok scusa Subito per cordesia Io non so dove stanno le delle gambe No Vai È vuota la stanza Ok vado Oh madonna Vai Ma aggiusta il Vado Rompi rompi Buga Vado Vado Subito Non è neanche entrato Dentro il buco Subito Il buco Tanto lo può Fa matte Ditemi Che buco Ah rook Sta sotto le scale Chiaro mi dispiace Nulla i due sogni Ma qui Fuse Non serve tanto Ecco No non è vero Può chezzare da sopra Dove c'è la botola Presura Bella dark Bandit è dietro La parete rinforzata Ma a te Dimmi Guarda che puoi fa Vai avanti Vai un po' avanti Controlla se con la Ok aperta Non puoi far niente No se ti apro questa Scusa Questa parete rinforzata qua Ok Jaeger nella stanza Quella a fianco all'obiettivo Quella che ho appena Quella che ho appena spottato Sì Non c'ho drone Marlock Se vuoi Ah no Non c'ho drone Dark qui Eh bravo Presa morto Ok Quello era bandit Stanza capito Scali in teoria libere Qualcuno dalla botola Qualcuno dalla botola Aperta Vai dietro Va di te la botola Va di te la botola C'è mute dentro l'obiettivo Sdraiato sotto No aspetta aspetta Tu non puoi chiudare Da qui vero No 20 secondi ragazzi Eh ma che stava fa Ok Buon idea C'è mute lì Esatto C'è un co***o C'è ancora una Dai vi scende Subito in testa Vai 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 Non mi hai fatto togliere Vai 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 Sparagli Sparagli Non metti Vai entra Tenete il contenitore Vai buono 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 Buonissimo Preso Sinistra Sinistra Da la porta Dove c'è la scala No è stata la scala Destra Fortigina Destra Destra Direlo qua Sparagli No Merino Tieni Merino Preso Vai cazzo Grande Grande Bello Sparagli Cazzo Buono Buonissimo Una buona Isca Sono una buona Isca Mi piace per così Come si è Eh dove rinforziamo Che la è in modo classico Eh qui Dove Vedi vedi Sto stai diseggendo la roba Guarda che roba Ma non piace a niente Dove è Twitch Eccolo qua Allora come cerca di diseggere Un altro Ma Rook ma ha ucciso quando Gero dietro un muro Cioè poi manco l'avevo visto Rook Caruccio lui da dietro Eh ma c'aveva l'elmeno Dalla prima guerra mondiale Ragazzi Un'armatura Eh sì È sempre quella di ma Carol stai crashando Oddio Mi si è frizzato il gioco Per un attimo Ragazzi Filo spinato dove lo volete Eh sull'entrata ci sta Ehm qua Dentro sta stanzetta Ehm Jemmer qua Jemmer qua Jemmer qua Dove? Qui dove l'ho spottato L'ho messo L'ho messo No non l'hai messo Ah lì E il drone invece ragazzi Dove lo piazza secondo voi Un punto buono Eh non lo so Pure adiacente all'obiettivo Eh nella stanza Delle scale In tanti incendi Eh ma se Twitch è mignotta Ha spaccato la finestra Ha spaccato la finestra Che l'occhio Merda Cosa c'è qualcuno Di spreggevole Capito ma Io non devo morire Perché devo curarvi Siete voi quelli che dovete andare Just No sono morto Ha fatto wallbanger Sledge Sledge Eh sì ma era dentro la stanza Come ha fatto a vedere Eh vabbè Col drone L'hai vista da Gilcam? Sì Ho guardato Ha sparato direttamente al muro Ovviamente No pensavi dove era Nelle scalette Nelle scalette antincendio Ok Io sto dietro la vasca da bagno Eh ma bucano qui Ovest raga La lippana Qui dove hai gemmato prima Eh non posso farci niente No no ci sto io Madonna sta luce Che si È la barlock Dark quanta vita hai Un'entrata Un'entrata Quanta vita hai Dark? Eh 80 No no io resto Rimango Perché sono uscito così Concreti Non lo faccio Un'entrata da qua ragazzi Nello stanzino Vai io copro a destra Io copro a destra Dimmi se copri qua Uuuu Cazzo Sono scarso Sono scarso Non lo faccio Tanto ogni volta è così Adesso gli ribuscano Non muoio Sì sì no ti spara l'è Tanto sono individuato Sono morto comunque Conteso No cazzo ragazzi Twitch a sinistra Proprio appena è entrata dalla porta Schifoso Twitch a sinistra Twitch a sinistra No Bella È qui È qui È qui È qui È qui È qui Che cazzo rompe Ecco lui qua Nella sala di servizio Ecco Bella Bella Grandi No Porca miseria Aveva due HP No Era bello te C'era la mimetica lì Guarda che bella la mimetica Madonna mia Telecamera Puff Infatti c'era Mew Di sopra Prima Ok Spawn killer ragazzi C'è il drone Marlock Senza che esce No Mi hanno visto il drone Bastardi Bastardi Le finestre Sono tutte chiuse Ok Vado di drone Le dark Ti controllo Ti controllo io Ah contro di te Mi piacelo io qua Tutta vota Anche quella di fianco Quella di fianco non lo so Aspetta Eh controlla Controlla Di solito ci metti Eh che so Mandraga ci metto 5 secondi Ho bloccato il gioco Ragazzi Ecco Buono buono Tutto vuoto Tutto vuoto Mi metti Il primo piano è vuoto Il primo piano è vuoto Sembra di sì Non tutto il primo piano Dronato però Quella stanzina Vabbè Non lo ho io Tutto il resto del primo piano Ma Intanto buca subito Matteo Ho colpito qualcuno Che stava barricando Ma non so Vado eh Vado eh Vai vai tranquillo Quella la puoi fai esplodendo Di qua È dark Ok le scale Dei garage Male No cazzo Blendit Armadietti Ah come a prima quindi Ragazzi ce n'è uno Ce n'è uno No Ce n'è uno nel garage Ce n'è uno nel garage Eh no lo so Ma non mi ha spesso Che c'è uno in due Dentro obiettivo Valkyrie mute Sono verso la stanza Del garage Armadietti Dragon Non è dragon Eh dark Il garage Attenti È a terra Eccolo No e ce n'è un altro C'è un altro Eccolo qua È caduto uno di sotto Ma è a terra Sì 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 Non due Mu si fanno rianimare Si fanno rianimare Garù Oh l'ho visto Dietro i barili Dark Eh Mi ha stesso Un altro ma Mi ha preso La valchiria dentro Dov'è valchiria? È dentro l'obiettivo Dietro le cose In bana Subito dentro La porta dietro Ragazzi ho uno di vita Eh qua c'è la rock ragazzi Non funziona Kero scendi Spare Eh male Noo Da dove c4 Siamo stupidi Occhio Occhio Vai Noo Vabbè Con un HP Ma un HP Era impossibile C4 Che stupidi Non l'ho proprio sentito Che sta vicino Alla volta Senti notato Non ci vuole Ma manco io Vi poca vita Vi poca vita Dai qui te che c'è Sia le tre camere Che il mute Subito le corazze Corazzine pelose Vai vai Bello il lavoro Vai bambini Prendete le mie corazze Oh sì Ah oh sì Ma non went away Esatto Ecco Allora Alle due porte Quelle là Davanti proprio a tutto Ci metti Il jammer qua Oh ma non Chiudete Oh bestia Cosa chiudiamo Oh le barricate qui Io ce n'ho una Eh qua Ce ne servono due Raga Ah è io Che ha finito le barricate Che ha fatto Ok le abbiamo messe Chiuso Ah il twitch qua di merda Cazzo il drone Mi ha fatto 10 danno Io vado di sotto ragazzi Io vado di sotto Così vedo se entra qualcuno da qua Ok Non push Era Thatcher No l'ha fatto un wallblank Sizz Sizz Cazzo è arrivata qua mi sa adesso Sembrava una capoccia Non vale Madonna Oddio 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 No ma mi vedeva da fuori Ah ma ha bucato Termite Che è carino Ok Termite ha dato il buco Dietro di te Matex Mi sa Dai la porta Bella Dar Corri Vabbè che io vado dark Dov'è il tipo Lo sapete ragazzi No Non so chi sia Ha piazzato una claimer Se ti arriva da sotto te lo dico Matex Torni all'obiettivo Se riesci Io sono poca via Ha piazzato la claimer qua 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 Sento sempre muoversi Dio mio Tre camera è quella funzionante Quella lì del corridoio Si Hai panna Io ho rotto Stupida Ti buca quella più Vai ho gemmato Gemmato Ho gemmato Bra Sopra sopra Lì Si Guardate la telecamera sotto Matte No Matte non spawn Bella Bella Che bestia Ti sto dicendo non lasciarla Ah siamo back di questo dark Bella ragazzi Bella Bella Ma io ho visto dark Con il gemmato Quanto mi piace rook Madonna È una bestia E il mute regna Sovrano Aspettate un attimo Io devo mudare Ok Quindi ragazzi Concludiamo qui Questo ennesimo episodio Della RTDL Ragazzi volete fare un saluto? Oui oui Ragazzi Grazie Per aver visto questo video Interessante Molto bello È entrato frattino 1 Non sono neanche classificato Io ancora Quindi Quindi ragazzi Come si sa Per il video Lasciate un bel piace Commentate Dite la vostra Iscrivetevi al canale Per altri video del genere E condividete Per ritorno In questo canale Quindi ci vediamo Al prossimo video Quindi bella ragazzi E bella lì Ciao 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 Grazie a tutti